Ciao mio caro amico aspirante trader professionista profittevole Oggi è martedì 2 ottobre 2018 e lascio ti mostri quello che ho fatto Come vedi questo è il range della sessione overnight E overnight siamo andati sotto il minimo di ieri Come vedi, questo è il minimo overnight E abbiamo aperto praticamente in prossimità di questa linea Nella zona intorno a questa linea tratteggiata magenta Che era l'importante livello della sessione pitusa di ieri Assieme a quest'altra linea magenta Questi sono due importanti livelli della sessione pitusa di ieri Bene, il primo trade che ho fatto oggi è stato un trade long con 3 contratti Come mai questa idea? Perché questa linea qua tratteggiata è un livello importante di calamita Per di più è attorno a dove c'è questo tipo massimo della sessione asiatica E dove c'è anche questa linea verde che è il 7 mil price dell'SP Mini 500 di ieri Bene, io sono entrato con 3 contratti long Proprio poi in minuti prima dell'apertura Ok, alle 15.25 Quando ho visto la situazione qua, ok Probabilmente il primo target era qui su questa linea tratteggiata magenta E cosa è successo? Il mercato, qui siamo a 2 minuti e 45 dall'apertura Il mercato, come vedi, ha 37 secondi all'apertura stando long Il mercato apre Fa un leggero pullback Ma poi va al rialzo Il mercato sta qua, staziona qua un pochino Come vedi, questo è il market profile dell'apertura Come vedi il primo target era questa linea tratteggiata magenta E poi la linea verde è il 7 mil price E poi il mercato cosa fa? Fa ancora un pullback Va vicino al mio stop loss Ma ti ripeto, se serve mettere lo stop loss Non c'è il rischio O comunque il rischio è molto limitato E poi il mercato, dopo questo pullback Rally high Verso i miei 3 target Perché a questo punto ho messo 3 target su questa linea magenta Tratteggiata E il mercato, come vedi anche la grafica regola 3 di hour session Bene, il mercato va dritto A prendermi il mio target E io esco a una primo trade profittevole di 262 dollari Con 3 contratti soltanto Bene caro amico Se anche tu vuoi trovare in questo modo Fare ancora meglio di me nel mercato di fiusci Della azione e delle opzioni Allora mandamela su Australia E su scrivimi al link sotto a questo video Il tuo momento ti ricontrerò Vedremo se possiamo lavorare insieme Nella mia fantastica rossificazione per traders Che so per certo farà meraviglie Per aiutarti finalmente a diventare un trader professionista e profittevole Che guadagna sempre il mercato di fiusci Della azione e delle opzioni Ciao da Almighty E ci vediamo al prossimo video